Ciao a tutte, eccomi qua, questa è l'ultima creazione che sto facendo, o per meglio dire l'avevo cominciata, poi l'avevo accantonata e adesso mi sono decisa a finirlo. Questo qua, se riesco a mostrarvelo, è il mio tavolino pieghevole, voilà, dove io perlino seduta sul divano, e lì c'è Nutt. Vi ho fatto questo video per darvi un piccolo consiglio, come vedete la Iena adora masticare le perline, quindi io in questo benedetto contenitore ho messo tutte le perline di scarto e lei ci passa delle ore dentro così non viene più a rubarmi quelle che sto lavorando. Abbiamo trovato questo compromesso, adesso mi morsica perché è una strega, come vedete lei ci naviga dentro, sono tutte perline, bottoni che io non uso più, e lei ci passa le sue giornate senza andare a rubare quelle che io sto usando. Altro consiglio che vi do è usate dei teli per coprire le vostre perline, soprattutto se sono in sacchetti di plastica, perché la vostra calopsite ve li sgranerà completamente. Questo è uno dei miei cestini degli orrori, ce n'è un po' in tutta la casa, ma abbiate pazienza. E voilà, poi lì ci sono altri nani che riposano, ce n'è un po' qua, un po' qua, gli altri dove sono? Da questa parte, siamo invasi dagli animaletti e per fortuna i gatti stanno in cucina e non in studio. La Iena persiste col suo giocare con le perline e questo era quanto. Ciao!